riguarda il trasferimento di questa ricchezza accumulata, trasferimento che si traduce appunto con un passaggio del testimone, quindi ad un certo punto sarà necessario proprio trasferire fisicamente la ricchezza accumulata. E vi posso dire che questo è un tema di cui gli italiani non vogliono proprio sentirne parlare, nel senso che tutte le volte che io parlo di testamento, successione, eccetera, mi becco praticamente i soliti scongiuri, nel senso che molte persone tendono di allontanarmi il più possibile. Ebbene, io ho il dovere di dirvi che molte volte la ricchezza si perde proprio a causa di una successione non pianificata. E me ne accorgo, ce ne accorgiamo facilmente se lasciamo parlare i numeri, perché appena il 12,6% degli italiani scrive un testamento nel corso della sua vita. Quindi molte volte le persone non agiscono in prima persona e lasciano lo stato di agire con le proprie regole. Cioè la successione verrà disciplinata con le regole previste dal nostro codice civile, che possono anche non starci bene, specie se non le conosciamo. Inoltre, se noi non agiamo in prima persona, esponiamo noi stessi, i nostri cari e il nostro patrimonio ha due enormi problemi. Innanzitutto, come abbiamo visto, sarà lo Stato a decidere e quindi queste regole potrebbero in un certo senso danneggiare anche una persona che noi volevamo in un certo senso avvantaggiare, oltre praticamente ad impattare significativamente a livello fiscale, perché io potrei ritrovarmi a pagare un sacco di imposte, quando magari potevo in un certo senso risparmiarle se facevo una corretta pianificazione. In secondo luogo, ci sono da sostenere moltissimi costi di tipo legale, molte volte appunto causate da liti familiari tra gli eredi, perché molte volte quando si è in vita si va sempre d'amore e d'accordo, però è cronaca praticamente di quasi quotidiana leggere sui giornali che ci sono intere famiglie devastate da liti che praticamente si risolvono in aule di tribunale e tutto questo praticamente causa una dissipazione del patrimonio, oltre che sostenere tante spese che magari veramente scrivendo due righe si potevano tranquillamente risolvere. Quindi perché è importante pianificare in anticipo la propria successione o provvedere eventualmente con delle donazioni in vita, se è il caso appunto di farle? Innanzitutto per prevenire liti futuri che come abbiamo visto costano. Possiamo in un certo senso risparmiare euro, veramente migliaia di euro evitabili in imposte che non andremo a pagare e terzo ma non per importanza, riusciamo a garantire ai nostri eredi o a chi ci succederà il nostro stesso livello di benessere, perché avremo mantenuto intatto tutto quello che faticosamente avremmo costruito e tutto quello che avremmo faticosamente fatto rivalutare nel tempo. Quindi per questo è estremamente importante fare appunto testamento. Molte volte la risposta che mi viene data è ma io non ho eredi. Innanzitutto vi dico che non è vero. Non è vero perché se lascio decidere la legge devo sapere che la legge procede per gradi di parentela fino al sesto grado. Volete sapere chi è un parente di sesto grado, una persona che forse nemmeno conoscete o con cui probabilmente non avrete mai parlato. È un figlio di un figlio, è un figlio di figlio di cugino, cioè probabilmente una persona che veramente nessuno ha mai visto in vita. Ultimo erede è lo Stato, cioè se io non faccio testamento tutti i miei veri finiscono allo Stato se non c'è questo parente di sesto grado. Penso che conosciate un po' tutti questo personaggio che ho qui riportato perché è un caso emblematico. Lucio Dalla alla morte ha lasciato un patrimonio di un valore inestimabile. Si pare sia di circa a Monti a circa 100 milioni di euro in varie attività ma soprattutto una pinacoteca intera, un intero piano della sua casa di Bologna era una pinacoteca oltre che i diritti ovviamente sulle canzoni. Lucio Dalla è morto senza lasciare nessun testamento e alla persona che gli è stato vicino per tanto tempo al suo compagno non è andato praticamente nulla perché la legge dice così. Non essendo sposati e non essendo uniti appunto civilmente ma soprattutto non avendo fatto un testamento quando magari era nelle condizioni di potergli lasciare qualcosa il compagno non ha ricevuto nulla ma pare che abbiano ricevuto la sua eredità tre cugine o cinque cugine con cui praticamente Lucio Dalla non intratteneva nessun tipo di rapporto e né tantomeno insomma pare che scorresse anche buon sangue però le cugine voglio dire di fronte a 100 milioni di euro sono state anche contente di ricevere questo dono. I soldi hanno fatto venire l'affetto. Esatto battuti a parte questo effettivamente è un dramma onestamente e Lucio Dalla avrebbe potuto pensarci prima avrebbe potuto insomma pianificare il tutto eh in vita. Quindi per gestire la pianificazione successoria è vero che servono competenze eh insomma che spaziano da diversi ambiti però è anche diciamo una materia che viene poco considerata anche spesso sottovalutata. Gli stessi operatori insomma del settore come avvocati, notaio, commercialisti eh non riescono ad avere una panoramica a trecentosessanta gradi sulla tematica ma vado dal professionista per avere un consiglio spot. Eh diciamo che in linea teorica dovrei conoscere le regole e capire eh se le mie intenzioni sono compatibili con quello che appunto dice la legge e trasferire le mie volontà su veramente su un pezzo di carta scritto in maniera tale da blindare quello che è il trasferimento del mio patrimonio. Quindi veramente è un atto eh semplice se conosco eh effettivamente eh.